ciao ragazzi ho notato che oltre a marco ci sono moltissimi comici e non solo che sui social stanno scherzando su questo problema del prezzo del gas che è veramente un problema molto serio ti incoraggio a seguirmi perché prossimamente farò dei video per darti delle soluzioni per scaldare in modo alternativo la tua casa senza l'uso del gas ciao da marco fai altro esperto del fotovoltaico